Perchè ospita? Perchè no? E' troppo lontana No vabbè, se funziona bene abbiamo pure l'helicotter Deve andare a ridurre qui, scendere Almeno altri due team Eeeh Festa grande Eh vabbè Dietro di te Mi è andato tutto male Quanto si è tirato io il quino prima Quelli hanno pure preso la caroncina Qua davanti Qua davanti Eh ma porco Non mi ha fatto manco pingare Hanno già le armi, sono sotto il boccione Matti si scappi Eh sta già scappando Vieni agli angoli Oh il gioco è giusto Si va via via Buon pulito Perchè Non si succede Vieni agli angoli Vieni agli angoli Viene Hanno il trofe Fatti Vabbè ce ne sono tre, dai tranquillo Ne ho questo AX con me Una merda Vediamo questo Questo mi piace Ok Sono scesi quelli Occhio Ce l'abbiamo già uno, io prendo il bombardamento Allora prendo il bombardamento Ma st'elicottero Ah Eccoli a sinistra Lui a sinistra sulla montagna stanno salendo Posizionamento Perchè? Eh non volevo Finire con Ma li vedi? Ah si hai visto Qui sopra, sopra Manchia di me Fatto Bravo Più una macchina dietro Oddio mi prende cazzo Oh Ah Oh Oh mi prendo? Oh Oh Credo Siete approfittato del grappolo per scappare È troppo d'arte Sparano, sparano Sì Sì, li vedo, c'è chi ne ha progettato sotto E sparano altri ancora Forse passando alla sinistra riusciamo a fare qualcosa Ma siamo in campo aperto in legge Guarda là, sparano all'ossadro Sono qua, 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 qua Vado qui Uno era là dietro Io lo tirerei, nozi Non l'abbiamo Vediamo se ce l'avessi cadaveri Sì, ce l'hanno qualcosa Bombardamento Bombardamento Eh vabbè Lo prendo Sì, se il drogo sono esplosivi Ok Non ho preso Minchia, e come saliamo? Cioè, dobbiamo tirare un bombardamento e correre adesso? In pratica sì Eh, andiamo, tiro il bombardamento Però lascio da dove saliamo il problema? Da sinistra, a forza Eh ma dove cazzo lo lancio il bombardamento? Vabbè, cammino con il bombardamento nelle mani Se becchiamo qualcuno lo tiro a cazzo Là c'è uno Là, là Qui c'è un bersaglio Questa cosa è tutta storia No, no, è solo Ok A terra Ok Eh, no Un altro Fatto 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 Quello lì vero non è stato comparmo C'è un cecchino più avanti E infatti si è arrestato A terra C'è un cecchino più avanti Eh, qua dobbiamo metterci Cazzo dobbiamo fare? Davanti che significato? Eh, era tipo qua, era Il cecchino A me speravano pure più o meno Sì, da destra, sì Sento tossire Che palle La ca... La casa è unsafe per un pelo E c'è qualcuno, mi sa Mi muovo Sì, sì, c'è C'è gente nella casa E dobbiamo stare sotto il muro, mi sa A forza Sì C'è proprio attaccati al muro Senta, ma questa smaccia L'abbiamo tutti Quindi Tutti nella zona sicura Ma io mi metto un po' più sotto ancora Ok Ah, io vorrei mettermi qua sopra, ma scivo Tossiscono? Sì Sì, se non lascio di stare Perché se loro Guardano noi da sopra Siamo... No, no, io non sto guardando Controllo se Solo se si butta qualcuno Ehi, guarda quello Non gli sparo No, no Dobbiamo sperare che si chiude verso sotto Dai Dobbiamo salire da davanti, a forza Un bel corso di tomba, tu che ci sei più vicino Ah, vabbè Eh, ce l'ho Ma non ce la facciamo Non ce la facciamo Uno, uno craccato Uno è più avanti là Stordito A terra, uno Lo dovete finire, è l'ultimo Lo dovete finire, è l'ultimo Abbiamo vinto Che culo di merda, raga Sì Tra l'altro, sono salito Questi due erano Vedetevi una Pianca all'altro E non si sparavano Ed erano gli timi diversi Erano contro Io l'ho convinto fossero due No eravamo tre cico Cioè tre timi più le persone Quindi eravamo tre contro uno contro uno Che culo raga se c'era se ci fosse stato anche uno solo dall'altra parte verso la 6 avremmo perso che culo la prossima volta vi invito fate qualcosa la prossima volta giochiamo carriati pro in attesa dello schieramento approfittatene per riscaldare vabbè dove cazzo state entrando l'ho vista solo tu hai un'arma in cp e io vicino a tutti no no regale a destra a sinistra a sinistra è uno più dietro granata a gas sto sperando a cazzo va dietro ma come l'ho tronata ma è morto dove è no minchia che culo vedete che ce ne erano altri avanti l'avete sentito? no che ho detto ma dai vaffanculo perchè ci aveva stonnato ma poi è morto lo stesso e ma voglio l'ho stonnato brutto lo avevo fatto da mamma io sono dentro la piazza io pure c'è gente davanti comunque eppure dall'altro lato c'era davanti qua 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 sono proprio qua davanti è andato tipo questo ok tracciato parco uno non c'è più dietro si arriva è c4 un altro grandissimo eh stavo andando mi avevo cacciato vabbè ma vabbè ma eh ma cosa abbiamo che c'era gente passi passi alla mia destra ha craccato c'è un altro si qui c'è un bersaglio un altro un altro e dov'è? è dietro di me dietro la casetta a sinistra dove sono io nord est ok è l'ultimo sto allaggando nooo nooo eh no no mi ha fatto l'aggine lo devo fregare niente avrano le loro armi eh ho quelli del cozzo no questo uno mi ha fatto con un bison un bison no a me mi ha fatto con un m13 dorato allora avevano fantasma con le armi pesate mi sei messo all'aggregare in questo momento tu a destra eeeh centro adesso a destra è arrivato alla tua fama eh c'è delay è al giuricolato eeeh salveee raga hanno chiamato allo d'auto raga a sinistra stanno entrando si sinistra sinistra verso 340 muore sotto di noi le pinga uno ho la nonna delle griche questo è il posto questo è il posto questo è il posto ma tu hai preso la bomba si si raga eh passi si passi sono entrati porca c'è poco alto non lo so c'è vicino sono il posto non mi ero scordato dal gioco Vabbè tanto io vi ho buttato Bellissimo Ho capito Aspetta ma dove volete andare voi? Dove sta andando scusa Dove volete? Al puntone arancione o a andare? Ma sopra? A meno che non lo voglio mantenere come un'ultima Da dove? Da dove? Da subito Eh ma sud basso Ah li ho visti alla casetta Ho lanciato il bombardamento Nooo me lo sono lanciato da solo Ma che palle sto gioco di merda Ce la fai a tiragli un bombardamento Che vado ad arrestare Eh io non ce l'ho Ce l'ho a lui Io ho una V Aspetta che poi gli sparo Prova ad arrestare Sono in due Almeno Dimmi se afferri qualcuno Tu ce l'ha il bombardamento Ma Mi sa che hanno tutto il due giocchino Io gli ho tirato il testo il bombardamento Sì così si muovono e li facciamo Ok mazzo Uno ha craccato pure Non biffate Non biffate Non biffate C'è pure un giocchino Dietro la casa Sono dietro la casa C'è un giocchino che vira Eh però no no Eh ma ora entrano Sì c'è mica quel cerchino che palle Sì Sì Pensavo che mi vedesse nel vero Ho finito le piastre Eh vabbè Eh ci sono di nuovo i due di primo Tieni Eh dopo ci ho pensato che potevano entrare nella casa Mi sembrava fosse quella chiusa Questi dobbiamo pusharli Stordenti e cosa Io ce ne ho due Oh mi vede Sì perché è andato più dietro Io non ho più piastre Aspettate che non se lo vede Lasciami le piastre Che lo vede C'è questo Ah ok Eh è qua sotto proprio Uno crackato Quello che non è messo Eh ci trovo Ah ok Stordito C'era uno sempre alla casa Uno qua sotto Ecco ce l'è davanti lui Ok restatemi Sei riuscita Arriva un secondo Un mezzo secondo Grazie Ok Ne avevano piastre Questi Sì 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 Eh però Non era male No C'è Cino ancora che mira C'è Cino che mira Da dove Sta pushando Hai visto il mio montarossa Sta pushando Sta pushando un altro dietro fatto 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 c'è una maschera è bravo poi c'è un'altra sacca sicuro c'era gente che crossava prima ma è sotto dove non lo vedo di salire non riusciamo a salire eccolo dove non lo vado è messo bombardamento cacato facciano avanti ma che non era traccato però io sono safe ha chiamato qualcuno perché ha detto la sopra c'è una a terra ma questo è sopra si eh ma non possiamo muoverci noi cioè se questo ci picca so cazzi siamo due contro uno contro uno contro uno sono rimasti questi due che pinga tu non lo avvi no no ok ma tu ancora in teoria siete dentro te lo pinga non l'ho sono due scordenti ma è pure io eccolo un espadone e ma non mi ha lacerato quello è sotto deve salire adesso vai venite andare controllo se sale da questo lato giusto mi ha messo la maschera mi ha messo mi ha messo la maschera però che colpa ma quello sopra è allucinante solo l'ailshot mi ha fatto ma non ho capito come a me non si sparava un po' di loro ma forse non l'ha visto ma in parte secondo me non l'ha visto era uno non era tanto quando l'ho sveglia non poteva stare no ero sotto sotto era questo cioè secondo me era ma l'occhio più sotto eh ma secondo me quello di sopra non lo vedeva quello di sotto perché appunto era troppo sotto Giovanni questa volta si fa carriare eh ogni tanto mi prendo una pausa raga si è riposato eh cioè tecnicamente sono ancora in positivo 9-3-12 voi 7-1-8 quindi io prima 2-3-1-8 sei in negativo rispetto a cosa? rispetto alle kill della partita di pre 9-8 rispetto alle kille 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 rispetto alle kille